Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere degli attrezzi veramente molto interessanti. Sono attrezzi dell'azienda Vesco con la quale collaboro da anni ed è una collaborazione che a me piace molto perché Vesco diciamo che è andata un po' in controtendenza con quello che sta accadendo oggi sul mercato perché ci tiene come fulcro aziendale a mantenere il made in Italy e quindi ad avere attrezzi che sono unici, dei pezzi unici e non replicati in più aziende. Quindi questa è una cosa molto molto interessante secondo me anche perché un'altra peculiarità che ho notato nel tempo è che Vesco ascolta molto i clienti andando a creare a volte come vedremo tra poco soluzioni molto interessanti che non vedo l'ora di farvi vedere. Andremo anche a provare durante questo video gli attrezzi in campo quindi godetevi tutta questa parte che poi andiamo a vedere come vanno di fatto in campo questi attrezzi. Allora oggi parliamo della linea a 21.6 volt quindi tutti i motori brushless, batterie a litio parliamo in particolare di utensili quali il potatore quindi una piccola motosega la X150 e la forbice X37 che ha un bel diametro di taglio. Tutta questa linea ha la particolarità di avere un aggancio per la batteria di questo tipo cioè tu vai praticamente a inserirla, ruoti e la batteria viene fissata poi qui abbiamo anche un fermino col quale possiamo fissare bene la batteria in modo che non giri durante il lavoro. Questo è stato creato per un motivo molto particolare che andiamo a vedere adesso perché vi presento questa asta telescopica. Questa asta telescopica è molto leggera intanto e ha praticamente una doppia funzione ha l'attacco per la batteria, l'abbiamo già inserita quindi la lascio qua ma la particolarità è proprio quella che possiamo agganciare questi due utensili questi due, ah devo sganciare ovviamente se no non ruota, ok possiamo agganciare comodamente questi utensili in questo modo quindi facendo la rotazione e inserendo questa sicura ci sono sul mercato attrezzi simili ma questo è molto rapido e quindi è molto versatile perché possiamo passare da avere la motosega a mano magari abbiamo da fare un taglio in alto rapidamente la inseriamo senza dover usare attrezzi o cose varie in quanto ci ho messo? 3 secondi per fissarla e abbiamo la motosega su asta poi questa chiaramente è un'asta telescopica quindi la possiamo allungare quindi questa è una cosa molto comoda e oltre a questo chiaramente come vi ho già anticipato possiamo inserire la forbice che ora andiamo a vedere l'inserimento che avviene al solito modo devo andare a togliere la batteria anche qua ovviamente devo togliere il fermino se no non si toglie ora poi parliamo anche di dati tecnici ecco vedete l'inserimento avviene in maniera veramente iper comoda quindi è semplicissimo questo è stato un sistema studiato proprio per rendere versatile questo tipo di attrezzi e così abbiamo anche la forbice su asta che ci può servire magari per andare a fare qualche taglio alto ok lasciamo lì anzi lo tolgo tanto l'abbiamo visto andiamo a parlare di tecnica allora abbiamo due tipi di batterie ovviamente per la forbice la batteria quella anche per una questione di pesi quella più piccola è quella più adatta e con due batterie ci fate tranquillamente la giornata parliamo di batteria da 2,5 am per ora che praticamente ecco qua semplicissima ad attaccare la fissiamo questa batteria praticamente è da 2,5 am per ora il motore è lo controllo perché a memoria tutto non mi ricordo più che altro non voglio sbagliare esatto 450 watt quindi è molto potente ma andremo a vederlo poi dopo in campo solita cosa per la motosega abbiamo qui due batterie consigliate sempre quella da 2,5 ma c'è anche quella da 4,5 poi magari in futuro ci saranno anche altre novità anche questa batteria si inserisce facilmente ha il suo blocco e anche questa è da 450 watt la particolarità di questa di questo potatore di questa piccola motosega è che abbiamo chiaramente la lubrificazione e ha una pompa dell'olio elettronica automatica mentre sulla versione x100 quella che vi ho già fatto vedere in un video abbiamo un pompante questa è automatica quindi molto interessante come cosa tra l'altro l'azienda può anche anche regolare la frequenza la quantità di lubrificazione che ora è impostata su un valore medio e ora vi faccio vedere un'ulteriore novità che era appunto veramente tanto semplice quanto geniale e questa è una cosa che è nata dall'esigenza dei clienti questa scatoletta qua che mi direte ma cos'è praticamente è un aggancio che può essere utilizzato sia nella cintura che è la cosa più consigliata ma in alcuni casi si può anche mettere nella tasca ora io qua ho il microfono quindi la metto nella cintura tanto si mette molto facilmente abbiamo questo lembo che si apre ok quindi così praticamente è inserita e la particolarità è che io qua vado ad inserire praticamente il mio attrezzo e rimane lì fisso quindi mi posso muovere non si sgancia per sganciarlo poi andrò a fare pressione su questo su questa levetta e la sgancio questo sia per il potatore che per la forbice quindi questo fa sì che abbiamo praticamente eliminato la fondina che risultava essere più ingombrante più scomoda e questa secondo me è veramente una genialata prima di andare in campo andiamo a vedere nel dettaglio come funzionano queste attrezze a partire dalla forbice della X37 allora chiaramente una volta che abbiamo inserito la batteria è fissata tramite questa levetta possiamo andare ad accenderla premendo il tasto si accende subito fa un suono che ci indica appunto che è stata accesa vediamo il numero di tagli che stiamo facendo e la percentuale di batteria per aprirla basta dare un click la forbice si apre una volta aperta qui abbiamo l'apertura massima che è di 37 mm che è veramente un bel taglio poi possiamo andare a chiudere e ovviamente ad aprire l'apertura è modulabile cioè modulabile è proporzionale al grilletto quindi vedete andiamo a fare possiamo fare un taglio proporzionale e possiamo anche andare nel caso serva a ridurre il diametro di taglio in questo modo teniamo premuto primo suono molliamo e abbiamo ridotto il diametro di taglio magari in alcuni ambiti può far comodo per far prima avere un'apertura più piccola così che il taglio avviene in maniera più rapida senza che debba fare tutta la corsa se invece teniamo premuto sentiamo il primo suono e il secondo suono si andrà a chiudere la forbice come adesso andremo a vedere ecco così la forbice è chiusa chiaramente qua abbiamo aggiunto anche questo accessorio di cui parlavo prima che ci serve per praticamente eliminare la fondina e avere la forbice collegata alla zona della vita e possiamo inserirla sia nel lato sinistro come in questo caso per chi è destro o nel lato destro per chi magari è mancino o per chi magari comunque preferisce averla sull'altro lato perché magari uno può avere sia la forbice che la motosega quindi diciamo magari una la mette da una parte e una dall'altra andiamo a vedere ora la X150 è una come abbiamo visto una piccola motosega un potatore cordless caratterizzata appunto da una barra di 15 centimetri come per la forbice la X37 la batteria si inserisce nel solito modo abbiamo il solito fermo abbiamo anche l'aggancio per collegarla diciamo in cintura andiamo a vedere come azionarla qui abbiamo il pulsantino power quindi teniamo premuto e vediamo i led che si accendono questi led ci indicano la carica della batteria a questo punto per avviarla abbiamo una doppia sicura abbiamo questo tasto che funziona sia da una parte che dall'altra premuto questo tasto si sblocca il grilletto come vedete la motosega parte in questo caso abbiamo un'unica velocità quindi non è modulabile ma è praticamente on off abbiamo come visto il serbatoio dell'olio che quindi lo apriamo riempiamo l'olio l'olio viene distribuito in modo automatico e qua abbiamo un possiamo chiamarlo una spia che ci fa vedere praticamente è un vetrino trasparente che ci fa vedere quanto olio abbiamo dentro il serbatoio così che ogni tanto ci diamo un occhio e quando ce n'è più poco lo andiamo ad aggiungere abbiamo ovviamente la protezione sopra la lama perché questa ovviamente è fondamentale voi non lo potete percepire perché non a parte il vedere ma non potete toccare da questo video questi attrezzi ma intanto lo spengo che non vorrei che mi parte mi trancio un braccio la qualità costruttiva è notevole la solidità la robustezza di questi attrezzi si percepisce come per l'asta che oltre a essere molto leggera è molto solida e tutti i dettagli il fatto che siano dei pezzi unici utilizzando questi attrezzi si percepisce quindi ora andiamo finalmente a provarli in campo per vedere come funziona eccoci in campo però io ho pensato ad una cosa molto semplice ha molto più senso che io vi faccia vedere questi attrezzi nell'utilizzo singolarmente in modo che chi ad esempio ha bisogno di una forbice vede la forbice all'opera chi ha bisogno di un potatore a mano vede il potatore pertanto chiudo il video semplicemente dandovi i miei feedback perché io li ho usati questi attrezzi li ho già usati come vedete anche la motosega è abbastanza sporca perché l'ho usata qua ho anche la forbice difatti ora vado a registrarvi un video che uscirà dopo questo quindi questo video serve per tutti quelli che vogliono capire le caratteristiche capire come funzionano gli attrezzi e come si incastrano tutto il resto e poi per chi vuole sul mio canale troverai video singoli di ogni attrezzo con la prova in campo allora vi voglio dire che la particolarità di questi attrezzi sta nell'aggancio come abbiamo visto questa novità che per me è fantastica risolve un sacco di problemi una cosa che potrebbe sembrare banale ma in realtà è veramente molto efficace gli attrezzi vanno bene c'è poco da fare si vede la differenza rispetto ai classici attrezzi copia e incolla con più marchi questi sono dei progetti realizzati in italia quindi pensati e creati e costruiti in italia quindi il made in italy si sente utilizzandoli vanno entrambi bene sia la forbice che il potatore l'asta è fantastica è comodissima è pratica il fatto che sia telescopica ha un grandissimo vantaggio mi piace un sacco il grilletto perché è veramente morbido ed ha un feedback bellissimo non giustamente non è stata secondo me giustamente non è stata inserita qua una ulteriore protezione perché così possiamo andare subito a lavorare tanto l'attrezzo è lontano da noi quindi è molto difficile creare problemi quindi è fatto veramente molto molto bene si riesce ad utilizzare con praticità e qui c'è una grossissima differenza appunto rispetto a ciò che propone il mercato ovvero altri attrezzi dove per poter switchare da attrezzo a mano ad asta bisogna complicarsi molto la vita andando a montare e smontare qua non serve alcun tipo di attrezzo come abbiamo visto si toglie si mette velocemente quindi è comodissimo ma questo lo vedremo appunto in campo con i prossimi video come detto cerco di lasciarvi in descrizione oltre che le caratteristiche tecniche dei link per l'acquisto di questi attrezzi spettacolari quindi detto questo chiudo e ci vediamo a presto con altri video ciao